ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti su gioca con mike e questo video è molto speciale ragazzi perché è speciale 50 iscritti e per prima cosa mi vorrei ringraziare di cuore a tutti voi che seguite i miei video che mettete dei like che scrivete dei commenti che vi siete iscritti naturalmente che fate iscrivere a me e mettere like a me perché anche voi fate dei video molto belli spero che tutti gli altri video vi sono piaciuti anche video un po più vecchi se li volete guardare non avete ancora visti sono sul mio canale grazie veramente di cuore ragazzi ho pensato come speciale mi faccio vedere avanti la che così vi saluto personalmente vi ringrazio personalmente poi vorrei anche fare vedere la mia nuova intro che la faccio passare adesso allora ragazzi e ragazze spero la intro vi sia piaciuta non l'ho fatta né troppo corta né troppo lunga un po colorata scrivete nei commenti se vi piace faccio anche un video singolo solo per l'intro poi così si può tipo presentazione intro nuova e poi come speciale ragazzi e ragazze solo per voi voglio giocare five nights at freddy's 4 con la facecam un gioco di orrore così vedrete come me la faccio sotto ragazzi vado a spegnere la luce preparo le cuffie me li metto tutto il volume si ringrazio come detto a tutti voi ci vediamo fra un po nel gioco five nights at freddy's 4 ciao a tutti allora ragazzi eccoci qua five nights at freddy's 4 vi spiego subito come perché non l'ho mai giocato ma ho giocato il primo gioco di questa serie serie si trattava che tu lavoravo in una pizzeria di notte dovevi fare la security dovevi guardare che era tutto a posto avevi tipo una stanza come gioco vedevi solo una stanza 12 telecamere o 9 non mi ricordo un paio di telecamere due porte a sinistra e a destra una porta che si poteva chiudere o accentere la luce poi avevi la batteria 100% che si scaricava più usavi le porte o la luce o le telecamere nella prima stanza ci stavano quattro mostriciattoli che poi si muovevano e tu con le telecamere vedevi dove si fermavano non potevi camminare niente solo guardare e se si avvicinavano vicino la tua stanza o accanto tu chiudevi la porta così se ne andavano e devi sopravvivere fino alle 6 di notte allora iniziamo con five nights at freddy's 4 5 giorni finché inizia il party si ok ah questo è freddy conosciamo dal primo gioco di tutta la serie cosa ha fatto questa volta ti ha rinchiuso di nuovo nella sua stanza non devi avere paura sono qui con te si sta piangendo v a s d ok oddio si muovono l'occhi dell'orsacchiotto guardate mamma mia psicopatici sono i miei amici lo spero lo spero qua posso prendere qualcosa no oddio devo aprire che devo fare no ah space non lo so piange domani è un altro giorno lo spero per lui oddio sta iniziando la nottata ragazzi concentriamoci volevo farlo al buio però poi non si vede la face cam ho messo una piccola lampada ho un po' di tosse perché già sono mezzo scioccato clicca qua per correre verso la porta sì perché no anzi di stare sotto le coperte attenzione ascolta se senti un respiro chiudi la porta se non senti nessun respiro usa la lampadina flashlight acqua ok control flashlight a chiudi la porta flick mouse ah così torni indietro ok tutto uguale sì tutto uguale posso ah oddio immaginatevi si muovono gli occhi ragazzi wow morirei morirei allora corriamo verso la porta non c'è niente naturalmente vi domandate perché corri sempre dove le porte puoi aspettare l'avanti però non è così perché più aspetti qua si avvicinano i mostri così era nel primo gioco mi sa che qua è uguale se sto qua fermo può essere che si avvicinano prima i mostri e mi attaccano di dietro della sinistra o di destra quindi tu più vai a guardare sempre dove le porte se vedi che c'è un mostro vicino lo senti come c'è scritto nel tutorial qua chiudi la porta e se ne vanno è uguale come il primo gioco chiudevi la porta e se ne andava però perché deve guardare dietro non lo so sto ragazzino oddio un armadio perché mettono questi americani hanno questi armadie nei muri non so il mio ha aperto e senza porte ragazzi il mio armadio non ha porte la finestra non c'è nessuno oddio se sento dei respiri devo chiudere la porta eh ok sono già l'una di notte possiamo sopravvivere la prima nottata senza avere problemi dicono che la prima nottata è molto facile più passano le notti più diventano aggressivi i mostri ragazzi più io dico che fino alle 3 le 4 non vedrò nessun mostro e invece se passano le notti notte 3 e 4 arrivano già dopo un'ora o così dopo voglio dire a luna di notte molto difficile poi ho sentito qualcosa poi le cuffie a tutto volume ragazzi oddio niente sono le 2 di notte dobbiamo sopravvivere fino alle 6 ok potrei stare pure fermo per vedere che succede ma non sono sicuro poi ho sentito dei passi oddio che cos'era l'avete visto? ecco la musica niente ragazzi non giocatelo non fate ste cazzate non le fate non le fate guardate cosa sto facendo per voi ragazzi questo è speciale per i 50 iscritti e me la sto facendo addosso ok quello è sempre lì comunque scrivete nei commenti se vi piace vedere ancora Five Nights at Freddy's 4 fino adesso sono le 4 sembra tutto a posto ragazzi ok ah mi sa che più lo guardi più se lo guardi abbastanza poi se ne va non viene più oddio chi era? chiudo la porta chiudo la porta oddio santo il cuore ragazzi il cuore mi è caduto aspetta lo riprendo ragazzi ragazzi perché faccio ste cose? sto tremando ok ok ce la facciamo provo un'altra volta provo un'altra volta notte 1 sto tremando ragazzi non me l'aspettavo però ho chiuso la porta perché forse dovevo tenerla più a lungo se sto qua poi è forte quando cammina sto ragazzino guarda per terra non è che cammina con la lampadina così ma se sto qua così con la lampadina può essere che viene dell'altra porta un altro mostro ho un'idea se viene non saprei se viene di nuovo qualche mostro là dove la porta ok me ne torno indietro dove il letto dovrei stare a sicuro poi ancora le 12 sono non passa il tempo che faccio? madonna ragazzi sempre il tempo non passa mai qua ok l'orsacchiotto è libero quello era mi sa Foxy ci stanno 4 mostriciate lo c'erano 4 al primo gioco Foxy la volpe non so il lupo Chica mi sa che è la gallina Freddy è l'orsacchiotto e chi c'era più? Bonnie? c'è Bonnie? non mi ricordo che cos'era l'orsè ah il coniglio si il coniglio è Bonnie madonna ragazzi perché mi ok almeno qua non hai le batterie che si scaricano come il primo nel primo gioco l'avevi 100% di batteria se si scaricava diventava buio e veniva un jump scare della madonna saltavi mamma mia non ci voglio pensare spero che vi divertite come mi spavento eh bravi bravi vi divertite non c'è niente sono le 2 di notte ragazzi ce la possiamo fare erano le 4 prima ce la potevo fare ma non c'è niente che si fa per i suoi iscritti e spettatori là fuori ok molto concentrato sono molto concentrato qua viene sicuramente di nuovo quel testa di pirla non me ne fa più paura quello sono più l'altre cavolate qua che mi fanno paura è la musica ragazzi la musica è impressionante ok ho sentito ragazzi non lo voglio giocare più non c'è niente come detto scrivete nei commenti se vi va di vedere bastardo se vi va di vedere ancora video horror con la facecam come me la faccio sotto scrivetelo nei commenti se conoscete qualche gioco che fa veramente anche paura ragazzi ditemelo provo a giocarlo per voi ancora qua questo non me ne fai paura tu sento dei bicchieri ok si è andato erano dei bicchieri non c'è niente sono le quattro ragazzi le quattro ce la possiamo fare controlliamo qua non c'è nessuno qua neanche mi sono dimenticato di ascoltare se ci stanno respiri no ok quello non c'è più sono ancora le quattro sto tempo non passa ok non c'è nessuno di nuovo qua se viene quel pirla sono le cinque ragazzi oddio chiudi la porta corri dietro ok mi sa che se n'è andato non c'è mamma mia che faccio guardo ragazzi sento dei passi non c'è nessun respiro dai si stanno facendo le sei le sei ragazzi ce la posso fare aspetto qua l'armadio ancora forse ok dai fatti le sei ce l'ho fatta ragazzi sono le sei del mattino ce l'ho fatta notte numero uno sopravvissuta quattro giorni fino al party ah un mini gioco di nuovo ok lo sai si nasconde di nuovo si lo so sono i miei amici l'hai detto già prima pirla freddi oddio non si fermerà finchè non lo trovi ok freddi freddi che sa volare oddio pure qua stai ma chi chi inventa sti giochi voglio vedere com'è fatto quello che ha inventato è nascosto qua voglio vedere quella persona che ha fatto sto gioco che com'è fatto freddi una porta no tappeto oddio pure qua rompni si domani è un altro giorno basta per adesso ho finito ragazzi questo era il speciale 50 iscritti solo per voi ragazzi mi so cacato sotto per colpa vostra spero vi sia piaciuto il video guardatelo tutto e guardatelo tutto scrivete nei commenti se volete ancora vedere dei videogiochi horror o five nights at franny i quattro con la facecam scrivetelo nei commenti lasciate un like condividete il video fatelo vedere a chi volete iscrivetevi ciao a tutti ragazzi di nuovo grazie di cuore vi voglio bene a tutti ci vediamo ciao ciao